Niente più proroghe nonostante la richiesta di un nuovo decreto arrivata dal ministro dell'interno Matteo Salvini per consentire anche ai bambini non vaccinati di continuare a frequentare le scuole. Dallo scorso 11 marzo dunque nessun bambino del nido e della materna dovrebbe entrare più senza il certificato originare rilasciato dall'ASL sulle vaccinazioni. I genitori che fino ad oggi hanno presentato soltanto un' autocertificazione dovranno avere in mano la documentazione pena l'esclusione dagli asili e sanzioni fino a 500 euro. Saranno i presidi a dover applicare la legge. Ovviamente per noi è una situazione delicatissima perché noi ci troviamo di fronte quasi, consentitemi l'espressione, a atti innaturali proprio per il carattere inclusivo e non esclusivo della scuola. Questi andranno fatti dopo i debiti controlli e quindi il rapporto con l'ASL deve essere sempre costante e al termine di questi controlli quando saremo di fronte a genitori che hanno dichiarato la loro inadempienza all'obbligo e la volontà di non adempiere necessariamente dovremo emanare i decreti di esclusione di questi bambini. L'esclusione in quanto tale poi non può essere di competenza del dirigente scolastico perché il dirigente scolastico non è che ci può frapporre all'uscio della scuola ai genitori, ci mancherebbe altro, competerà alle forze dell'ordine che lo dovranno fare con la dovuta sensibilità perché anche questi bambini esclusi comunque hanno il diritto all'istruzione anche se questo diritto nel caso specifico subisce la priorità dell'altro diritto che è il diritto alla salute di cui ho appena parlato.